Il Parco Miralfiore, dopo le polemiche degli ultimi giorni che lo hanno riguardato, si prepara ad ospitare un'iniziativa dal timbro sociale che coinvolgerà i bambini pesaresi. Domenica 16 ottobre, dalle 9 alle 18, il polmone verde della città vedrà manifestarsi la prima edizione di Miraviglia, il mercatino per i più piccoli dove potranno esporre e vendere i giocattoli che non usano più. Sarà possibile allestire le bancarelle nello spazio a fianco al bar Serra degli Agrumi, che offrirà la merenda per tutti i piccoli ambulanti che parteciperanno all'evento. Questa iniziativa, organizzata dal comune di Pesero con il liceo artistico Mengaroni e l'aiuto della protezione civile, è improntata sulla diffusione di tematiche come il riuso e l'eliminazione di ogni tipo di spreco. L'obiettivo è di far partecipare i cittadini e le famiglie all'interno del Parco Miralfiore. Miraviglia, mercanti in gioco, abbiamo visto che durante la fiera di San Nicola ha funzionato, è stato un evento che i cittadini hanno recepito bene e hanno partecipato in tanti. Tanti bambini hanno tanti giocattoli dentro le proprie stanze che non usano, non utilizzano, in questo modo possono giocare, divertirsi, fare baratto. Una cosa che ci raccomandiamo ai genitori è di portare solamente i giocattoli perché deve diventare un gioco. Infatti proprio per questo la locandina abbiamo voluto sottolineare il fatto di chiamarla mercante in gioco. È un modo per giocare e scambiarsi giocattoli. Ringrazio il liceo artistico Mengaroni di Pesaro che è stato disponibile e veloce nel creare questa locandina. Il vincitore è Marco, un ragazzo giovane che si è messo a disposizione, quindi per meritocrazia oggi l'abbiamo anche invitato qua in conferenza stampa. Quindi complimenti e grazie di nuovo alla preside Perugini e alla professoressa sempre disponibile con il comune di Pesaro.